Valentina Cappanera che come la nostra storia si intreccia con la storia di alcuni pescatori di Camogli. Camogli è un paesino che sta qui vicino, in una delle zone comunque del promontorio di Portofino fortemente antropizzate, però mantiene ancora oggi quelle che sono le caratteristiche di un borgo di pescatori, che ancora oggi utilizzano un sistema di pesca che si chiama Tornarella, che viene calato ancora oggi in mare come nel 1600. Quindi che cos'è una Tornarella? Penso che tutti voi abbiate già sentito parlare delle tonnare famose di Favignana, Carloforte in Sardegna. Le tonnare di solito pescano tonni, la Tornarella è una piccola tonnara in miniatura, cioè c'è un sistema di camere, prima del sistema di camere in realtà c'è uno sbarramento perpendicolare a costa che ferma la corsa del pesce, e poi un sistema di camere dove il pesce prima si raccoglie e poi viene catturato. Le vere tonnare pescano tonno rosso, il famoso tonno rosso che tanto i giapponesi amano. A camogli in realtà, proprio perché si tratta di un sistema molto piccolo, e perché di fatto tonni non è mai pescato più di tanto, neanche quando tonni ce n'erano molti, in realtà si pescano pesci con caratteristiche simili a quelle del tonno, ma che di fatto sono annoverati nella lista dei pesci poveri. Pesci poveri in realtà, non parliamo di pesci con una bassa denuncia dei redditi, come dico sempre io, ma si tratta di pesci che costano poco, e pesci che hanno una carne che si degrada facilmente, spesso le persone quando vanno al mercato non li vogliono, e sono palamite, sgombri, bonitti, che si avvicinano sotto costa a cercare l'acqua più calda e vengono catturati dalla tonnarella. La tonnarella ha una particolarità, che si trova all'interno di un'area marina protetta, l'area marina protetta di Portofino, sembra strano che questo sistema di pesca vada d'accordo con un'area marina, ma in realtà ci va d'accordo perché è un sistema di pesca sostenibile, perché pesca pesce povero, e poi i pescatori utilizzano una rete da tantissimi anni che è biodegradabile, una rete naturale in fibra vegetale, che ogni anno si fanno arrivare dall'India e lavorano nel periodo invernale. Per tre o quattro mesi i pescatori producono una rete, ogni anno una rete nuova, in questo periodo appunto è da ieri che è in pesca, la mettono in mare di solito e resta in mare fino a fine agosto-settembre. Quindi questo è un altro motivo per cui si dice che sia una pesca sostenibile. Ora, io dal 2006 lavoravo e lavoro come collaboratrice nell'area marina protetta di Portofino e ho iniziato a lavorare sull'impatto della pesca professionale, quindi mi sono trovata a contatto ogni giorno, volente o nolente, con i pescatori. All'inizio, diciamo, è stato molto difficile perché tutti sanno che i pescatori sono molto schivi e soprattutto se già il pescatore ligure è chiuso, il pescatore di Camogli vi assicuro che è veramente chiuso. È un personaggio molto difficile. Però, diciamo, mi sono da subito appassionata, innamorata di questa tonnarella e insieme ad altre due mie care amiche, Ilaria Vielmini e Maddalena Fava, che purtroppo stasera non ci sono perché siamo sempre più internazionali, quindi sono in giro per il mondo, abbiamo deciso di aiutare i pescatori per far conoscere il più possibile il problema della tonnarella. Perché problema? Perché ogni anno i pescatori mi dicevano chissà se l'anno prossimo riusciremo a rimettere in mare la tonnara, perché non ci sono più giovani che vogliono fare i pescatori. Allora noi abbiamo detto, ma non ci sono più i giovani? Vabbè, noi siamo donne, ma perché non possiamo andare in mare noi? Facciamo la donnarella. Ci svegliamo all'alba, usciamo in mano con i pescatori, gli diamo una mano e integriamo un pochino anche il loro reddito. L'idea di partenza era buona, però in realtà non avevamo fatto i conti con i pescatori. E soprattutto con il fatto che oltre a non essere di camogli eravamo anche donne. Così, però diciamo che non potevamo fare la donnarella, ma ce ne siamo fregate comunque. Cioè abbiamo deciso comunque, essendo testarde, di dargli una mano. In che modo? Creando appunto un'associazione culturale nel 2010, chiamata Ziguele. Sarebbe Ziguele, che è il nome in genovese di un piccolo pesciolino colorato, a righe rosse, bianche e verdi, che in volgare italiano significa donzella. E noi siamo tre ragazze, quindi abbiamo deciso di darci questo nome. La nostra mission, diciamo, l'idea di base era quella di far conoscere la donnarella, in che modo? Portando i turisti a visitarla e quindi raccontando tutto quello che facevano i pescatori in quel momento. Quindi spiegando l'attività di pesca. Soprattutto per far riavvicinare i giovani ad un antico mestiere. E diciamo che il primo anno abbiamo avuto soprattutto un successo mediatico. C'è da dire che abbiamo portato sostanzialmente amici e parenti per avviare l'attività. Però già dal secondo anno abbiamo iniziato a fare le gite con le scuole, a diffondere sempre più, possiamo dire, di aver portato la donnarella in giro per il mondo, perché hanno cominciato a venire anche turisti stranieri e l'attività è cresciuta moltissimo. Quello che abbiamo voluto fare noi sostanzialmente era far rivivere un pochino un'esperienza fuori dal tempo. E possiamo dire di essere riuscite a rivolgerci anche a un tipo di turismo diverso da quello di massa, ma fatto di persone che si sono mostrate sensibili alle problematiche ambientali e della natura. Concludo, perché non ho più tempo, dicendo che anche se a volte sembra proprio una lotta contro i mulini a vento, perché comunque di fatto il pescatore non gli piace avere vicino il turista, non gli piace avere vicino le donne, però quando penso a tutto quello che ho e che abbiamo imparato e che ancora stiamo imparando da loro, penso che cercare di salvare questa attività di pesca non sia solo una passione forte, ma debba quasi essere un dovere. Grazie.